ciao a tutti ho approfittato della della buona produzione di pomodori quest'anno della nostra produzione pomodori dell'orto per fare questi pomodori secchi allora ho tagliato nel senso della lunghezza i pomodori all'inizio li ho fatti così li ho messi su una teglia su carta forno poi però ho cambiato metodo e ho usato le cassettine forate che adesso vi farò vedere questi sono già due giorni che stanno al sole ecco qua vedete la cassettina forata permette meglio l'asciugatura quindi adesso continuo con le cassettine ho messo un pochino di sale il secondo giorno vado a tagliarli al centro così per farli asciugare meglio si può fare anche allargarli anche con le dita così in questo modo ecco qua e li lascio tutto il giorno al sole bisognerebbe certo poi seguire il sole qui sul mio terrazzo c'è abbastanza fino al tardo pomeriggio ci metto ancora un po di sale questo naturalmente è a vostro gusto tanto poi comunque vanno sciacquati prima di condirli e se ci vanno per evitare che ci vanno gli insetti vespe moschini è bene coprire con un telo questi che avete visto sono quelli che avevo messo sulla carta forno che però poi ho tolto e continuo l'asciugatura adesso il tempo diciamo sette otto giorni ma dipende molto dalla forza che ha il sole naturalmente adesso ad agosto con sette otto giorni riuscite a farli seccare bene adesso vi faccio vedere vedete sono belli asciutti li ho anche girati ogni tanto li giravo eccoli qua vedete sono belli secchi ok allora io ci sono diversi metodi di come mantenerli io li surgelo ho deciso di surgelarli poi li metto nelle bustine così ne userò un po' per volta come mi servono adesso vi faccio vedere soltanto una piccola dose solo solo una dimostrazione li sciacquo li sciacquo in acqua anche in acqua corrente adesso per farvi vedere mi sono messa qui sul tavolo li sciacquo un pochino li lascio giusto qualche minutino se sono belli secchi poi li asciugo altrimenti ci sono altri metodi tipo il sottovuoto e si mantengono a lungo oppure sott'olio metterli sott'olio nei barattoli io procedo così vedete una volta bagnati li asciugo con un telo così li lascio anche un pochino così all'aria e poi li metto dentro una ciotolina in questo modo li copro con l'olio ce ne metto un pochino poi ce ne metterò altro perché tanto se lo tirano i pomodori se lo assorbono quindi poi li coprirò ancora e poi ci vado a mettere un po' di aglio tritato finemente ci metto l'origano e qui andate al vostro gusto c'è chi ci mette i capperi addirittura il peperoncino volendo naturalmente li prepariamo magari un giorno prima così si ammorbidiscono e si insaporiscono per benino adesso ci aggiungo l'altro olio li copro li copro con l'olio tanto poi si avanza scusate si può l'olio si può usare si può usare per fare la pasta per il sugo eccetera eccoli qua volendo ci mettiamo anche un po' di prezzemolo ci sta bene bene questi li useremo per svariate ricette sopra le friselle ci stanno benissimo per fare due spaghettini perché no poi andremo a vedere bene le ricette su come usarli ciao a tutti